l'uscita della voce mia in dentro la scheda bisogna lavorare e basta non fate quelli brillanti esatto, i brillanti è arrivato a fare il brillante no io sono il brillante grillo, con Giuda questa sera grillo totalmente fuori di testa hanno fatto una cosa che nessuno si sarebbe mai immaginato nessuno avrebbe mai pensato che questo sarebbe stato possibile e lei single-handedly molto bene instruzione no no No, 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 no Oh, sì I was trying to strike shit, I was trying to sweat shit Let's go Sì, sì, sì Sì, sì, sì Sì, sì, sì Sì, sì, sì 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 Non c'è fatica, donna Ok Però il tuo cavo Non c'è No, ha fatto zompare il concerto Colpa mia, ragazzi Zompare tutto il concerto E' la colpa a turno qua E' la turno Questa volta sono io incolpato Chi è da il po' Chi è da il po' In quanto stanno? Sì, in quanto stanno, bro? Sì Eh? Ok, perfetto Con lo suo programma In fin In fin In fin We're in the start! Non c'è Con lo suo? Se qualcuno ti ha Se non è capace Sì Se non è capace Non c'è Se non è capace Grazie